Pupo è sovessa! Salve signora! Stiamo contentissimi! Ha visto? Un regalo, si ce l'ha fatta! Ce l'ha fatta, ce l'ha fatta! Ha passato tutti i debiti con 6 e lode! E ho già detto signora che 6 e lode non esiste! Ma questo lo dice lei! Ma che potrà tuo regalo! Grazie ma non c'era bisogno! Sì, dei fiori per lei! E' un bel regalo anche per i bambini che si è tanto impegnati! Abbiamo regalato un bel Rolex! Ah! Come ricordo, questo impegno... I 6 del debito! Sì, perché impegnarsi li paga sempre! L'anno prossimo può fare il contrario signora di fiori a Piercarlo ma i Rolex! Ah! Ma che batacchione! Come so, pensa allora! Intanto le faccio un bel augurio per l'inizio di quest'anno! Grazie anche a lei! Sarà contentissima, come si ricorda, che avrà quest'anno tutti i due i miei figli! Quindi non solo Piercarlo ma anche il mio amico Maria! Che ha preso 6 e lode all'esame di terza media! Esattamente! E lo studioso di casa! Che meraviglia! Non vedo l'ora di iniziare quest'anno! Ma sa che Piercarlo per lei è la propria mia vita! Che meraviglia! Che bello!